In un continuo percorso di competizione, rinnovamento e rimodulazione di veicoli di successo e pregevole fattura, la Renault assesta un altro decisivo colpo con un remake della Capture d'Aurla, la Capture-Cattura, nel senso letterario, metaforico, e rivoluzionario. In casa Renault hanno da sempre messo al centro dei propri progetti l'idea, concettuale, di un continuo rinnovamento. Con questa nuova scelta, che va sulla scia del percorso tradizionalmente votato verso la rimodulazione di decisioni progettuali già vincenti, la Renault si rilancia ulteriormente su un restyling, quello che ha pianificato la Renault, con una trasformazione che ha a che fare non soltanto con quel che concerne l'aspetto stilistico e motoristico, ma anche Ovvero, scopriamo tutti i dettagli proprio partendo dal concetto da cui parte la Renault con questo sviluppare, in senso ancor più propositivo e positivo per i clienti, una Capture La Renault sta andando avanti nello sviluppo della Capture sull'onda lunga del progetto di rinnovamento che ha già riguardato la Clio, di cui si è tra le altre cose parlato E, per appunto, dopo la Clio, è il momento dello step successivo, con il crossover compatto che viene rivisto, a tutto tondo, sia sul fronte dell'abitacolo che sul lato E, per appunto, il concetto di rimodularsi per essere contemporaneo è solo uno degli aspetti che sfiorano le corde di una estetica rinnovata verso l'alto Con l'asticella della qualità che esprime concetti di grande a Ma anche il fronte della meccanica e del motore viene rivista, anche senza grandi rivoluzioni da questo punto di vista Considerate le ottime prestazioni del veicolo in quanto Sembrerebbe esserci, stando a proiezioni e rumors, che ci sia una sorta di linea di continuità sulla linea di stile che la Renault, sul fronte estetico, ha scelto per la nuova Clio e per Sembrerebbe S dimensioni maggiori Luca accentuato nell'aspetto dei LED con scia luminosa e di ultima generazione, la possibile chiusura del tetto con colori a contrasto e anche tanta, tanta tecnolo In particolare, strumenti di controllo digitale con un display da 10 pollici e una gestione delle funzioni molto più pratiche, intuitive e non in veicolo